E' arrivata questa serie speciale di carfight vanguard o carfight vanguard che si voglia e non ce la sbustiamo in sfidotta, no? Io porto a aprirlo, sono 6 mesi. Apriamo, sono box diverse dal solito perché hanno 15 buste e anche un case diverso e vince, ci sono delle stampe da EB345, però c'è in particolare una carta che è grossissima che è il Duca, o Duke che dir si voglia, o Boy Duke come la so pronominato e sottoscritto, e chi la trova vince, vediamo 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 la sfidotta. Per chi non sapesse chi sono, Boy Luke tranquilli, è medioevo, è normale che voi non sapete, Boy Luke sono famosissimi, però continuiamo, partiamo. Vai, 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 attenzione, prima bustina. Allora c'è, attenzione, io ho trovato un peidone armata della morte, ragazza oasi, una moscafazza, un geminitazione, c'è, doppia R però, rizer, per assoluto alta potenza. Ok, io invece, andiamo, c'è Duke, c'è il Duca, il Duca? Una R. Una R? R? Sì, mi sposchia. Intanto è doppia R versus R, quindi. Sì, ma la prima busta questo parte con le sfide. È certo, la prima busta. Sì, ma stai sereno, ce ne sono solo 14. Ammetti che il Duca non esce. Attenzione, c'è, Jack il Brutale! Carta rara. Jack il Brutale. Io vado, ooooh, anch'io. Anche io, pareggio, vabbè. Fu il pareggio, fu il pareggio spettacolo. Vabbè, no, vuoi dividerli, eh? Perché tu sei io sempre avanti, eh? Attenzione, c'è, Gleiser, sorella di battaglia, carta rara, è da E-B5, ci sono varie sigle, E-B1, E-B3, E-B4, E-B5. Sono tre serie in una, praticamente. E, e? E mi ferma una R, post. E una R anch'io da E-B3, Jelly Beans! È stato deciso di fare condensare in una serie speciale sola, che si chiama Extra Collection, tra serie speciali E-B. Vado, ooooh, un'altra R, maledizione, mi sta andando malissimo. Un'altra R, Drio, Drio del Metallo della Morte. Eh, doppia R, sempre avanti post. Attenzione, Tiovers! Vediamo, vediamo. È il Ducato. No, doppia R. No, doppia R, pareggio, pareggio, chi è che attenzione? Espresso avventato. Ma c'è, c'è, è lei. È arrivato lui, è lui, o è lei. Ok, non so, cocco assorale di battaglia, non è il Ducato, però, vabbè, fai vedere. Eheheheh, bitiuma. Siamo! Ma l'ho dormito tre ore stanotte. Attenzione! Oh, no, una R. Il Ducato è triple R, vero? Ovvio. Camera mananumice. Abbiamo esecutore draconico da EB3. Abbiamo ancora un sacco... Potremmo ancora entrambi, Ducato? Attenzione! Potremmo anche... Un'altra coccoa. Un'altra coccoa. L'unica cosa è che stai dividendo le R. Io a un certo punto ho messo tutto a caso. Ma un po' anch'io. Vedo, vedo R, vedo R e vedo... Mi smoschia! Una signorina che... Non si vede bene. Non si vede bene, diciamo. Sì, esattamente. Attenzione! Cos'è? Come RRR. Attenzione! Qua, qua. Come vedo R? Vedo R e vedo... Ragazzo dell'Armatura della Muerte! Ma questa doppia, tripla R... Glace. Detta anche... Boy Yook... Donde sta? Donde sta? Dette anche ansia. Adesso è doppia R! Doppia R! Alfiere Armato della Morte! Comincio a avere qualche problema di diventura. Oh! Drago Azzurro ristampa di BT6 questa. Doppia R anche lei! Attenzione! Mancano ancora i tripla R! Eh! Ma qui quanti busti ho? 5! Ma sarei sicuramente più avanti! Ma anche dunque siamo un po' in pari! R! Cavaliere Armata della Morte! Io vado eh ragazzi! Vediamo! Vedo R! Vedo R! Vedo R! Vedo R! Vedo R! E... Uh! Uh! È tripla R! È tripla R! Tripla R! Tripla R! Eh! La vediamo insieme dai! Su! 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 Cos'è? No! Scarabèo Maestro! Tripla R comunque! Scarabèo Maestro! Mutante delle arti marziali! Allora! Dai gli smontiamo un pochino le ali! Io ho 3R! Vediamo se... Hai 3R? Come hai 3R? Ho 3R! Ho 3R! Rizer perfetto! Rizer perfetto! Eh! Perfetto! A post! Pareggio! Ma secondo me sì! Non ho calcolato però le doppie! È vero! No ma le doppie R sono forse uguali! Attenzione! Carta R! Da una idea! Cioè Daisy! Daisy di H! Vale per la vittoria eh! Perché è sorella dei Boy Duke! Allora io ho trovato una R che si chiama droide vince palese! No no! E' normale che vinta! Ma no! Perché Boy Duke ha una sorra che si chiama Daisy! Quella si chiama Daisy di conseguenza... Si sta parlando sempre di Medioevo tranquilli! Triple R! Triple R! Seconda Triple R! E allora di cosa stiamo parlando? Della seconda Triple R! Della seconda Triple R! Della seconda Triple R! E che è? Ceo! E' anche un Ceo! Quindi è uno grosso! Ceo Amaterasu! Giusto? Anche io ho una Triple R se vuoi! Come anche una Triple R? Nel senso... Davvero? E' Potasi! Imperatore! Dudley! 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 Signore D'Amoniaco! Pensavo che era il Duca! E' anche secondo me! Però magari vediamo ancora un paio di box da aprire! Attenzione! Doppia R! Si chiude con... Cioccolate! Sorella di battaglia! Oh! Una doppia R! Macaron! Sorella di battaglia! Bene! Bene! Quindi abbiamo capito! E qua... Cosa facciamo? Sono comparsi in box ancora! Vai! Sì! 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 Perché noi siamo... E siamo fatti così! Non ci possiamo fare niente! Tubers! Dobbiamo sbustare! Non è stato il Duca! Ma noi il Duca lo vogliamo vedere in faccia! Io lo trovo! Io il Duca lo voglio guardare negli occhi e dirgli Duca! Ti ho trovato! Giusto? Come minimo adesso non ha gli occhi! Non ha gli occhi! Il Duca! Ma sei un Duca! Vabbè andiamo avanti! Attenzione! E' maleducato! E poi un pochino si! Se non esci tu che sei un po' maleducato! Andiamo avanti! Vediamo cosa uscirà in questi altri due box! Situber! Stiamo facendo un unboxing che spero vi piaccia! Andiamo diretti! Vai diretti! Carta R! R! Vai Nader! Stregone spezzamentele! Ma ricordiamo che boss ha sempre la sorellina desidia! Attenzione! C'è! Ma con il cerchio! Carta R! Vortimer! Vortimer! Faridere! Faridere! Vortimer fa ridere! Vabbè ogni tanto c'è qualche nome simpatico! R! R! Cavaliere maturale alla morte! Attenzione! Il cavedano no? Il cavedano che cavalca un luccio! Attenzione ecco qua! Salone di battaglia! Rutilia Dario! Ma tu Desi l'hai trovata? No eh! Ma può essere! No! Io l'ho ancora vista io! Cooper si fa che stai più attenti! E' uscita Desi! Intanto c'è Kirara ragazza maga! E io ho trovato la... Lei! Lei! Che è una doppia R! Era quella dello starter! Sì! La principessa dei fieri di ciliegio! Bene bene bene! Carta R! Carta fanciulla della bilancia! Poi c'è quella dello scorpione! Sono le gemelli dei pesci! Una 3R! Sì! 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 E questa sento che... È 3R! Guardatela! Guardatela! La sento è una 3R! Non è vero! No! È una R! È una R anche la mia! Ma arriva adesso! La 3R! Guardatela! Poi ci becco eh! E anche secondo me! Tu urla ogni busta prima o poi! Sempre fa R! Ok! Un'altra R anche per me ragazzi! Anche questa R! No! Non volevo farla vedere ma l'ho fatta vedere! Ma è uscita Desi di qua! Io non l'ho ancora vista! Sì! Mettila che poi... Ok! Coco! Io drago azzurro! Il pomeriggio sempre azzurro e lungo! Per me! Per te! Per me! Per tutte! Vediamo! Ma prima le 3R sono uscite alla fine! Mago dell'origine! Doppia! R! Sì! Verso la fine! Giochi del Brutale! Quindi! Quindi! Queste ultime 4 buste! C'è il mondo! C'è il mondo ragazzi! C'è il mondo! 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 Prolusione infinita! Ma cosa fa? Di cosa ci fiscale questo? Given n! Vado! Triple R! Triple R! Triple R! Triple R! Triple R! Cos'è? È un caghero! Una carta di caghero! Hai detto come per dire una carta ti fa un po' caghero! Stazione! Stazione R! Vediamo! Anche per me R! Ok! Ma dov'è? Ma poi ci fermiamo perché... Niente duca! Oh! Eh no boss! Non funziona così! Non funziona! Non funziona! Non c'è il duca! Non c'è il duca! Non c'è il duca! Non c'è il duca! C'è ancora Fortimer che diventerà la mia carta! Allora la mia ultima è la doppia R! Quindi Tupers! Niente duca! C'è Tom il... Ci sta la nuova versione del Tom però hai visto che figo che è? È bello 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 sì! Dai B5! Un espresso avvelenato! Eeeh vabbè 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 vabbè! Allora rimaniamo con boss vincitore perché ha trovato Desidiac! Eh! Tupers! Oppure facciamo così! I Tupers! C'erano chi vince! Ma anche te vabbè! Anche ti miaggia proprio a perdere con le tue stesse mani! E noi vabbè magari busteremo qualche altro box alla ricerca del duca! Si! Tupers! Ci auguriamo che questo unboxing vi sia piaciuto tanto! Condividete il video! Metto mi piace! Facciamo la voce impostata! Si! Io presto! Facciamo i video youtubers! Noi siamo dei finti youtubers! Vabbè! Grazie per seguirci numerosissimi! Ci vediamo alla prossima end! Da boss e Kiki! Ciao! Goodbye! Ciao! 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 Ciao!